Difonso annuncia una novità nella sua già numerosa flotta di Pullman. Dal mese di aprile, infatti, 150 mezzi impegnati nelle percorrenze regionali e interregionali verranno affiancati da due mezzi speciali. Si tratta di Diana e Uranio, che renderanno possibili le tratte interregionali verso e da Roma, senza barriere. Sono dotati infatti di pedane per il trasporto di sabili, una novità che vuole puntare a rompere definitivamente i limiti che troppo spesso incontra chi è costretto su una carrozzina. Noi sul territorio ci siamo da tanto tempo e siamo stati sempre piuttosto sensibili a portare in giro con i nostri mezzi il più comodamente possibile tutti i soggetti che si presentavano e chiedevano il servizio. L'esigenza di questi due mezzi è perché abbiamo avuto tante di quelle richieste da parte specialmente delle scuole, delle associazioni di categorie eccetera. La Difonso rappresenta la più grande società di trasporto privato per la regione Abruzzo. La sua storia infatti inizia nel 1945. Attualmente sono 160 i lavoratori presenti e questo ulteriore investimento rappresenta l'impegno costante ad offrire il miglior servizio ai passeggeri, tenendo in considerazione le esigenze di categorie specifiche che fino ad oggi non avevano facilità di accesso. Noi siamo come le formiche, infatti siamo partiti da niente e grazie a Dio siamo i privati più forti per il momento almeno e speriamo di rimanere tali.